Ciao ragazzi, in questo video andiamo ad analizzare e a risolvere un circuito in cui sono presenti alcuni condensatori in serie e in parallelo. In particolare dobbiamo determinare la carica e la differenza di potenziale presente tra le armature di ciascun condensatore, sapendo che la tensione fornita dal generatore è uguale a 40 volt e che le capacità di questi 5 condensatori che vediamo sono C1 uguale a 1,40 per 10 alla meno 6 farad, C2 1,75 per 10 alla meno 6 farad, C3 4,00 per 10 alla meno 6 farad, C4 2,50 per 10 alla meno 6 farad e infine C5 uguale a 1,80 per 10 alla meno 6 farad. Iniziamo l'esercizio e indichiamo con A, B, C e D questi quattro nodi che vediamo evidenziati sul circuito. Osserviamo allora che la differenza di potenziale tra i punti A e B, vista la presenza di questo condensatore, sarà uguale a Q1 fratto C1, in cui indichiamo con Q1 la carica presente sulle due armature del primo condensatore. Similmente la differenza di potenziale A, B deve essere uguale a Q2 fratto C2, quando andiamo a riferirci a questo secondo condensatore. Osserviamo poi il terzo condensatore. Abbiamo che la differenza di potenziale BC è uguale a Q3 fratto C3. Similmente la differenza di potenziale CD sarà uguale alla carica 4 fratto la capacità 4, come la differenza di potenziale CD è uguale a Q5 fratto C5. Queste differenze di potenziale devono rispettare questa legge, cioè che la tensione fornita dal generatore deve essere uguale chiaramente alla differenza di potenziale tra il punto A e il punto D, che è la somma delle differenze di potenziale AB più la differenza di potenziale BC più la differenza di potenziale CD. Vi ricordo che stiamo considerando un generatore di tensione ideale. Andiamo quindi a svolgere l'esercizio e osserviamo che i condensatori 1 e 2 sono in parallelo, così come i condensatori 4 e 5. Possiamo quindi ricondurre lo studio di questo circuito a questo equivalente, in cui, osservate, ritroviamo un condensatore di capacità che indicheremo C1 e 2 presente fra i nodi A e B e un altro condensatore di capacità che indicheremo C4 e 5 presente tra i nodi C e D. Essendo i condensatori 1 e 2 in parallelo, avremo che la capacità 1 e 2 è uguale a C1 più C2. La carica presente su questo condensatore equivalente deve essere la somma delle cariche presenti sui condensatori 1 e 2 e quindi deve valere che Q1 e 2 sia uguale a Q1 più Q2. Inoltre, la differenza di potenziale tra i punti A e B deve rispettare questa legge, cioè deve essere uguale a Q1 e 2 fratto C1 e 2. Similmente, anche i condensatori 4 e 5 abbiamo visto essere in parallelo. Deve quindi valere che la capacità 4 e 5 è uguale alla somma delle capacità 4 più la capacità 5. La carica 4 e 5 è uguale alla carica 4 più la carica 5 e la differenza di potenziale tra i punti C e D deve essere Q4 e 5 fratto C4 e 5. Considerando ora anche il terzo condensatore di capacità C3, osserviamo che questi tre condensatori sono in serie e quindi possiamo ricondurre lo studio di questo circuito a questo, in cui ritroviamo un unico condensatore di capacità C12345 equivalente. Per semplicità utilizzeremo la notazione C equivalente. Per questo condensatore deve valere che 1 fratto la capacità equivalente è uguale a 1 fratto C12 più 1 fratto C3 più 1 fratto C45 e questo perché i condensatori sono in serie. Vale inoltre che la carica totale presente sulle armature di questo condensatore equivalente deve essere uguale alla carica 1,2, alla carica 3 e alla carica 45. Chiaramente deve valere la legge differenza di potenziale tra i punti A e D uguale alla carica totale fratto la capacità equivalente. In questo modo vedete abbiamo analizzato completamente il circuito e abbiamo riscritto tutte le formule che ci servono per andare a determinare le capacità equivalenti e le cariche e le differenze di potenziale. Per svolgere i conti seguiremo questo ordine. Partiremo prima di tutto con lo studio delle capacità equivalenti. Poi grazie a questa legge possiamo calcolare la carica totale e quindi tornando indietro con quanto svolto riusciremo a ritrovare tutte le cariche riferite ai condensatori studiati e tutte le differenze di potenziale che ci sono richieste. Iniziamo quindi a svolgere i conti. Iniziamo dalle capacità in parallelo. Abbiamo che la capacità 1,2 è uguale alla somma di C1 più C2. Abbiamo quindi C1,2 uguale a 1,40 più 1,75 per 10 alla meno 6 farad. La capacità 1,2 è quindi 3,15 per 10 alla meno 6 farad. Scriviamocelo e andiamo avanti. La capacità 4,5 è uguale a C4 più C5 quindi 2,50 più 1,80 per 10 alla meno 6 farad. Troviamo 4,30 per 10 alla meno 6 farad. Riscriviamoci anche questo dato e andiamo a studiare la capacità equivalente. Sappiamo che vale 1 fratto la capacità equivalente uguale a 1 fratto 3,15 più 1 fratto 4,00 più 1 fratto 4,30 per 1 fratto 10 alla meno 6 farad. Osservate che con questa scrittura sto utilizzando in modo corretto il 10 alla meno 6 e l'unità di misura. Svolgiamo questa somma e otteniamo 4 fratto 5 per 10 alla meno 6 farad. Ora, invertendo questo risultato che abbiamo avuto, troviamo che la capacità equivalente è 1,25 per 10 alla meno 6 farad. Osservate, ho fatto semplicemente 5 fratto 4 e poi ho riportato l'unità di misura con il 10 alla meno 6. Abbiamo quindi capacità equivalente uguale a questo valore, possiamo andare a ritrovare la carica totale presente su questo condensatore. In particolare andiamo a svolgere carica totale uguale capacità equivalente per differenza di potenziale ad. Abbiamo quindi che la carica deve essere uguale a 1,25 per 10 alla meno 6 farad per 40 volt e quindi otteniamo 5,0 per 10 alla meno 5 coulomb. Riscriviamoci questo valore che sappiamo essere uguale alla carica 1,2, quindi quella presente sulle armature di questo condensatore, alla carica 3 e alla carica 4,5, cioè le cariche di questi altri due condensatori. Possiamo ora andare avanti andando a determinare tutte le varie differenze di potenziale. Riscriviamoci per comodità il valore della capacità 3 e andiamo a svolgere questi conti. La differenza di potenziale AB è carica 1,2 fratto capacità 1,2, quindi 5,0 per 10 alla meno 5 coulomb fratto 3,15 per 10 alla meno 6 farad. Otteniamo 15,9 volt. Riscriviamocelo e andiamo avanti. La differenza di potenziale BC sarà carica 3 fratto capacità 3 e quindi 5,0 per 10 alla meno 5 coulomb fratto 4,0 per 10 alla meno 6 farad. Otteniamo 12,5 volt. Riscritto anche questo andiamo a svolgere l'ultimo conto. Differenza di potenziale CD è carica 4,5 fratto capacità 4,5 e quindi 5,0 per 10 alla meno 5 coulomb fratto 4,30 per 10 alla meno 6 farad. Otteniamo 11,6 volt. Riscriviamoci quest'ultimo risultato e osserviamo che abbiamo ottenuto le tre differenze di potenziale AB, BC e CD considerando quanto studiato a proposito di questo secondo circuito. È inoltre importante osservare che queste tre differenze di potenziale AB, BC e CD rispettano la legge che avevamo scritto inizialmente, cioè la somma 15,9 volt più 12,5 volt più 11,6 volt ci dà i 40 volt iniziali. Riscriviamoci questo dato a parte e andiamo a determinare le varie cariche presenti sui condensatori. Per farlo invertiamo queste formule. In particolare avremo che la carica 1 è uguale alla capacità 1 per la differenza di potenziale AB. Similmente la carica 2 sarà C2 per differenza di potenziale AB, la carica 4, C4 per differenza di potenziale CD e la carica 5, capacità 5 per differenza di potenziale CD. Osservate che avevamo già determinato la carica 3. Eseguiamo quindi i conti. Abbiamo carica 1 uguale a 1,40 per 10 alla meno 6 farad per 15,9 volt. Otteniamo 2,2 per 10 alla meno 5 coulomb. La carica 2 sarà 1,75 per 10 alla meno 6 farad per 15,9 volt e quindi 2,8 per 10 alla meno 5 coulomb. Verifichiamo inoltre che la somma delle cariche 1 e 2 ci dà effettivamente la carica totale. 2,2 per 10 alla meno 5 coulomb più 2,8 per 10 alla meno 5 coulomb ci dà 5,0 per 10 alla meno 5 coulomb. Sappiamo già che la carica 3 è uguale a 5,0 per 10 alla meno 5 coulomb e proseguiamo svolgendo dei conti simili a prima per la carica 4 e la carica 5. Abbiamo Q4 uguale a 2,50 per 10 alla meno 6 farad per 11,6 volt. Otteniamo 2,9 per 10 alla meno 5 coulomb. E la carica 5, 1,80 per 10 alla meno 6 farad per 11,6 volt. Otteniamo 2,1 per 10 alla meno 5 coulomb. Anche in questo caso la somma delle cariche 4 e 5 ci dà 5,0 per 10 alla meno 5 coulomb rispettando quindi questa formula. A questo punto abbiamo concluso l'esercizio perché siamo riusciti a ritrovare tutte le cariche e tutte le differenze di potenziale richieste e che vedete ora evidenziate come risposta al nostro esercizio. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire come analizzare questi circuiti con condensatori in serie e in parallelo. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete il mi piace e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. A presto!